ciao ragazzi sono antonio ricco direzione di chitarra moderna.com in questa lezione voglio mostrarti come poter suonare the best song ever dei one direction questa qui ovviamente è una canzone dedicata un pochettino al pubblico più giovane ma anche i più grandi celli possono imparare qualcosa da questo brano innanzitutto va detto che non siamo in tonalità originale perché questa lezione appartiene a una serie dedicata al trucco dei tre accordi in là in questa serie puoi semplicemente cliccare qui sul link che appare sul video oppure nella descrizione per andare a vedere la playlist con tutte le lezioni nell'ordine giusto così che tu puoi imparare come utilizzando questi tre semplici accordi puoi in effetti imparare a suonare diverse canzoni di successo quindi questo qui è un esempio dove adesso suoniamo il tutto in là utilizzando gli accordi di la re e mi maggiore allora qui abbiamo praticamente due battute che si ripetono ci sono diversi ritmi diverse cose che avvengono a livello ritmico e di atmosfera nel brano però gli accordi sono in effetti sempre questi qui sia per l'intro verso chorus e così via allora abbiamo un re sul primo terzo e quarto battito la prima battuta quindi uno due tre cambiamo sulla sul quarto battito e poi abbiamo una battuta di mi maggiore e il brano è questo qui quindi uno due tre quattro adesso non dimenticarti sempre di di contare di sempre contare quando fai questi esercizi così sai esattamente su quale battito sei così che puoi cambiare sull'accordo giusto per quanto riguarda il ritmo in questo caso ne stava improvvisando uno tu puoi ovviamente cercare di emulare quello che stavo facendo se sei un pochettino più avanti con le tue capacità ritmiche altrimenti puoi semplicemente suonare come facevo prima quindi soltanto sul battere oppure aggiungere delle note sulle varie quando preferisce quindi 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 ok quindi questa è la tecnica base mi raccomando vai a vedere le altre lezioni di questa serie sul trucco e tre accordi per una serie per principianti quindi puoi vedere tutti quanti i diversi consigli che do sulla ritmica come poter suonare gli accordi meglio eccetera se questa lezione ti è piaciuta sono sicuro che ti potrebbe interessare il mio corso chitarra primi passi questo qui è un corso dedicato a tutti quanti coloro che si avvicinano alla chitarra e vogliono già da subito imparare un gran numero di canzoni utilizzando dei semplici accordi prova a vedere l'offerta speciale c'è il link che appare su questa pagina oppure la trovi anche nella descrizione di questa pagina e poi mi raccomando ragazzi queste lezioni sono gratuite quindi apprezzare veramente tantissimo un pochettino di collaborazione se ti è piaciuta e hai imparato qualcosa oggi clicca mi piace condividela con i tuoi amici e lasciami un bel commento grazie per l'ascolto non dimenticarti di controllare chitarra primi passi sono sicuro che è un corso che ti sarà di grande aiuto per estendere il tuo repertorio già da subito grazie per l'ascolto alla prossima